Bello ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino Con quale skin cominciamo il videozzo di oggi? Pizzi, capricciosa, a quanto pare è la sorellina di una skin che abbiamo visto per la primissima volta qualche giorno fa nello shop giornaliero Si somigliano? Parecchio direi ragazzi, un bel po' eh Io ancora non ho capito e lo scopriremo presto Ovviamente se tale skin uscirà tra qualche oretta nelle cose oggetti, quindi per voi sarà già uscita nel caso Oppure dovremo aspettare domani Comunque sia, non voglio soffermarmi troppo su questa cosa Clicchiamo qui sugli incarichi perché, come avrete sicuramente visto, è uscita la settimana 4 delle sfide settimanali Io qui ancora devo capire che soglia bisogna raggiungere per avere degli oggetti gratuiti Attualmente io mi trovo alla fase 16, quindi 25 incarichi su 26 completati Ok, noi andremo a guardare solo la settimana 4 quindi cercheremo di completare queste sfide E vediamo quanti e quali incarichi bisognerà completare per far arrivare nel nostro armadietto gli item di cui vi sto parlando Quindi cominciamo subito con un bel pollicione all'insù e condivisione di quest'info con tutti i vostri amici Codigo Martex è la tenda dei Fortnite per sostenere al 100% il canale con tutti i vostri acquisti Nelle cose oggetti ragazzi miei, molto semplice, un grazie infinito a tutti quanti voi Ciò che crea un po' di confusione nelle sfide odierne, che cos'è? Ve lo mostro subito, di solito quando andiamo nella nostra sezione incarichi e clicchiamo sull'argomento Ragazzi miei, proprio qui in alto a destra che cosa appare? Ma perché devo beccare sempre il pivellino di turno? Cioè ma ci sono altri 99 player, no? Vai lì per favore Dicevamo, quando abbiamo un item in regalo completando degli incarichi Proprio qui sotto l'exp compare un pallino che va appunto ad indicare che ci sarà un'altra ricompensa oltre all'exp In questo caso i 34.000 punti esperienza Quindi ragazzi scopriamo assieme di che cosa si tratta Tra l'altro non siamo in 99 ma è una rissa squadre, un po' di meno Cerchiamo di completare la primissima missione Rimbalza su uno pneumatico, una ninfea e un condotto d'aria Io ne ho già fatti due ragazzi miei e credo che abbia già saltato su una gomma Quindi una ruota delle auto Ed un condotto d'aria presente a mega city Sono quelle mega vent che vi spingono in aria nel momento in cui ci cascate su La ninfea non è altro che questa mega fogliolona che trovate all'interno dei laghetti Quindi ci saltiamo su Ok, la contata dovremmo essere 26 incarichi, vediamo Ci ha dato un item ragazzi Un piccone Ok Benissimo Ma perché tutti sti item non vengono mostrati nelle sfide? Secondo me ragazzi miei li possiamo trovare all'interno della sezione pass battaglia E' molto probabile che siano qui Esatto ragazzi Allora ricompense e incarichi Vediamo, ci siamo Ci siamo Sono qui ragazzi, sono proprio sotto ai nostri occhi Ma il fatto è che sono delle sezioni del pass battaglia che in pochi controllano Credo, allora Con 26 incarichi abbiamo sbloccato questo qui Quindi questo ne mancano 3 Ok, completa gli incarichi di questa stagione settimana 3 e 5 Non dobbiamo completare ragazzi per forza le sfide della settimana 4 e basta Tra l'altro che bello che sto deltaplano raga Ma è meraviglioso Ragazzi la mega foglia con il banchetto di sushi Bellissimo Nighiri a volontà E questa invece Ok 10 incarichi E vabbè 10 incarichi Spettacolo Spettacolo Avevamo già visto questa sessione ad inizio stagione Però l'avevo già dimenticata Quindi ragazzi miei Andiamo a sbloccare sti mot Super colpo Scoppiettante di gioia Andiamo Praticamente per arrivare all'emot tanto desiderata Dobbiamo completare altri 5 incarichi Questo ovviamente vale per me Non so invece a quanti incarichi state voi Quindi quanti incarichi settimanali avete completato fino ad oggi Però raga Attenzione perché per determinate sfide richiede solamente settimana 3, settimana 4 e settimana 5 Allora, 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 allora Distruggi oggetti Eccola qui l'avente Questa è l'avente di cui vi parlavo prima Distruggi oggetti mentre sei su una posizione grind E questa? Non so se me li stia contando ragazzi Vediamo Sì, 3 su 25 Oh mio Dio Portami fortuna Vabbè raga Prenderò la pensione Due 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 oggetti Dai Ci siamo Ci siamo Un altro La seggiolina La seggiolina Olè Andiamo così Ci è voluta una vita Non fatelo Nel mentre sblocchiamo anche i nuovi perk Questo c'era anche nella scorsa stagione Ma vabbè Grazie Accettiamo questa taglia prima di crepare Perché ragazzi miei Completeremo un'altra sfida Le trovate sempre nella sessione incarichi Ok Benissimo Grandioso Ci siamo Ci siamo Ci siamo Vediamo se dà qualcosa Aspettate Ok Grazie per l'exp Non ha dato nulla Forse manca un solo incarico Molto belli Molto belli No vabbè Il sound Spettacolare Ragazzi Io amo Sti mot Amo anche la canzoncina Che c'è in sottofondo Bellissimo Adesso però tocca Cambiare modalità E quindi si va in squad Fill Belli miei Vi dico solo che ho beccato un team Tutti quanti Tre pin Su sponde Schiaffose Ho pinnato solo io Abbassione brutale Han cambiato tutti quant'idea Quindi si va Dai 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 Conquistiamo questa zona Prendiamoci il boss Andiamo Sì 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 Ok Ok Ho capito Ho capito Fratello Ok Una a terra Cerchiamo di restare lui No Arriva Un'altra a terra Va bene va bene va bene va bene Bellissimo fratello GG E ora si aspetta lo spawn del boss Teoricamente completeremo due incarichi in uno Perché dovremo assistere la kill del boss E poi dopodiché aprire un cavo con la card che rilascerà No 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 ci hanno killato il boss Sti infami Ci hanno killato il boss ragazzi Dannazione oh Vado Vabbè almeno apri il cavo raga Mannaggia comunque Incredibile quando devi far qualcosa Ci sono 3000 ostacoli Incredibile E vabbè non può andare tutto bene La squad buona l'avevamo beccata E purtroppo Eccolo lì il deltaplano Niente male ragazzi Bellissimo Va bene dai abbiamo tutto Wedge un guiccolo Eeeh Magari la prossima volta ok Oh mio dio Ok 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 va benissimo Stiamo sfondando raga Mamma mia come stiamo macinando ragazzi miei Dai ci stanno gli ultimi tre in piedi Possiamo farcela Bel match comunque Mamma mia Bella sta squad Davvero mi è piaciuto il gameplay Stanno sull'isolotto Vedo una testolina sporgere Adesso scoppierà Stanno conquistando Stanno conquistando Ma lui dorme Fatemi capire Ah ma quello lo aveva atterrato prima Quasi Abbiamo già fightato con sti tizi Oh mio dio Questo l'ho atterrato Il john guiccolo l'ho atterrato prima Abbiamo vinto raga Eccolo L'abbiamo atterrato prima Alla gas station Come prendere questo Meraviglioso Che bomba che sto fucilozzo Meraviglioso Manca l'ultimo dai Lo sta seguendo Left AK Eccolo lì Aspetta Eccolo 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 White Eh last hit ragazzi Non proprio Eccolo qui Raga Ma che winnozza Squad fill Ma saranno felicissimi loro Come lo sono io Mamma mia Gigissimo Oddio è esploso lui È esploso Ok 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 Spettacolare sto deltaplano ragazzi La carpa volante è meravigliosa Ora l'intera isola è nella tua zona di consegna Dopodiché completiamo anche la missione di assoldare 4 npc in giro per la mappa Eccoli qua Allora Il primo follower verrà rimosso Ma no 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 Comunque raga sono fighissimi i 9 npc Ognuno ha una funzione ben particolare Lei ad esempio mi ha seguito tutto il tempo e lanciava munizioni Ovunque Lui invece mi curerà per tutta la partita Fantastico Mi chiedevo ma se terminassi da solo il boss Lo considererebbe ugualmente come assist Proviamo Non lo so eh Oh mio dio Sì l'ha contato Vai così Altro che assist Altro che squad terzetto duo Buonissimo raga potete farlo anche in singolo Cerchiamo di assoldare l'ultimo npc finalmente e le nostre missioni saranno completate Ci siamo ragazzi miei Vediamo 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 Ok Compari Eccolo lì ragazzi Emote Sbloccata Ok Perché ho voluto fare questo video ragazzi miei? Perché so per certo che Fino a fine stagione Ciao bello mio Fino a fine stagione Che cosa accadrà? Siccome sono una sorta di Incarichi Barra ricompense Nascoste Si creerà una disinformazione Esagerata E ci saranno tanti player che Non conosceranno Tutto ciò che vi ho mostrato Fino ad ora Quindi Tali ricompense Per far sì che vengano sbloccate A più non posso Da coloro che stanno guardando questo video E non Ragazzi miei Ho fatto in modo che Il tutto accadesse Comunque oggi Seriamente Good vibes In ogni singola partita Non accadeva Da un bel po' Tutto ciò Vediamo la schermata Let's go Ragazzi GG La equipaggiamo subito Ok Tutto completato Ci siamo Ci siamo Vabbè Settimana 0 Per il momento Non ci interessa Però ripeto ragazzi miei Sono degli incarichi Che purtroppo Si possono vedere solamente Qui Tramite la sezione Pass battaglia Non vengono Indicati Sull'incarico Che stiamo per completare Quindi Ci tenevo davvero tantissimo A condividere quest'info Con voi Io spero che finora il video Sia stato di vostro gradimento Un bel codico Martex Alla tenda di Fortnite Perché andiamo A guardare Il negozio Oggetti Ho visto già un player Con questa skin Quindi teoricamente Dovrebbe essere uscita Ragazzi Eccola qui Drop D E' uscita forse Due giorni fa Novità assoluta Ma oggi In evidenza A fianco a questi due Studatici Abbiamo Pizzi Capricciosa Mi è stata data In early access Da parte di Epic Games Ieri alle ore 16 Apprezzabile Le do un 6 e mezzo 7 Ci sta come skin Ragazzi miei Una sorta di cristallo Barra accordo Potente 800 V-Bucks Di skin Allora 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 Sotto abbiamo Beh Non male raga Le nostre skin Di Hogwarts Parkour Regione dei ghiacci Oppressore I golfisti Spiaccicarella Milite Trinity Bellissima Ok Va bene ragazzi Chi si ricorda questo audio Raga Noi ci becchiamo In un prossimo video Matudino Ogni giorno Qua alle 7 Mi raccomando Non mancate Iscrizione Distruggendo il bottoncino rosso Qua sotto Mi raccomando A prestissimo E come sempre Un bel SIA BROTHERS